Emanuele Imprudente, grandissima affermazione della Lega a livello nazionale ma anche a livello locale, avete avuto buonissimi risultati, un trend che vi aspettavate? Ma sì, sinceramente l'ultima settimana la percezione c'era, è stato un risultato eccezionale a livello nazionale, a livello abruzzese, a livello della provincia dell'Aquila e della città dell'Aquila. Emanuele Imprudente, segno che ciò che Matteo Salvini in questi tre anni, da quando è nato questo progetto nazionale, è stato recepito da tutti. È un risultato che dà un segnale molto chiaro al centrodestra nazionale dove esiste un solo leader che è Matteo Salvini e sul dato regionale abruzzese dà un altro messaggio molto chiaro, cioè lo sfratto esecutivo dei confronti di D'Alfonso e del Partito Democratico. Ecco, a proposito di questo, quella del Partito Democratico è stata una debacle forse anche al di là dell'immaginazione delle aspettative? Ma nell'aria c'era, ma non così sinceramente. Segno molto chiaro che i cittadini hanno capito che è un partito che non sta vicino alla gente, ai problemi della gente, nonostante ci siano state forme di potere enormi. Ecco, adesso gli scenari. La prima bocciatura sonora del centro-sinistra è arrivata alle amministrative qui all'Aquila. Adesso questa a livello nazionale, le regionali saranno il prossimo banco di prova qui a livello locale? Ogni elezione ha storia a sé. Chiaro che in questo momento, con questo dato elettorale e così, dà due elementi. La Lega è primo partito e quindi è l'elemento trainante di tutta la coalizione, comunque di un'area politica vasta. E sicuramente da parte del PD, come ho detto poc'anzi, è finito in epoca. Adesso per quanto riguarda gli scenari a livello nazionale, si dovrà trovare una forma di governo per non rischiare di riandare al voto? Prima di parlare di questo, essendo questa un'elezione elettorale molto complicata e particolare, io credo che sia importante capire i numeri veri che ci saranno in Parlamento. Fatto questo, vediamo, però una cosa è chiara per quanto riguarda l'incarico che dovrà dare il capo dello Stato, non può che darla a Matteo Salvini perché è il leader del centro-destra. Il centro-destra comunque ha avuto come coalizione un numero importante davanti ai 5 Stelle. Un dato positivo è stato anche la grande affluenza alle urne? Ma sì, va detto pure una cosa, che alle elezioni politiche sostanzialmente gli italiani vanno a votare. Poi in questo momento era anche importantissimo, perché questa è una legge, era un momento particolare per la nostra nazione, e quindi diciamo così, il 60% degli italiani è andato a votare contro un sistema che in questi anni ha fatto sì che l'Italia diventasse un'italietta. E quindi c'è stata una reazione vera che è passata maggiormente per 5 Stelle e Lega. Grazie. Grazie. Grazie.